Si narra che Jens, oltre ad essere il più bello dei giovani pastori della regione, era un valentissimo cacciatore e un divino suonatore di flauto. Le melodie che ricavava dal suo magico strumento incantavano anche le belve più feroci. La fama del prodigioso pastore arrivò sino al re dei vasi o basi che lo fece cercare per sollevare il velo di improvvisa tristezza abbattutasi sull'animo della bella figliola. Le misteriose melodie incantarono quelle rozze anime primitive e fecero ritornare il sorriso sulle labbra della superba San. Ma a poco a poco quelle note scesero nel cuore della giovinetta, e fiorì l'amore. I due giovani si amarono in silenzio con la schiettezza e la violenza delle anime semplici. Una notte scomparve il canoro pastore e, con lui, la bella San. I giovani innamorati salirono, per sentieri impraticabili, lungo le rive del Bradano sino alle caverne abitate dalla famiglia di Yenzi inutilmente inseguiti dagli scherani del furibondo re. Per onorare la bellissima ospite e regina e per darle un degno e più sicuro ricovero, si decise di fondare una nuova sede sulla colline che dominava le caverne fino a quel momento abitate. Sede, che dal nome dei fortunati amanti, si chiamò, Gensan, indiglienzano poi Gensano sino alla fine del 1600, ed in ultimo Gensano. Gli studiosi, che casualmente si occuparono del nostro paese, senza fermarsi intorno alle origini, affermano che il nome di Gensano sia derivato da quello gentilizio gentius che per primo ne fu signore. L'esistenza di tale personaggio ritrova conferma nella platea di tutti gli corpi dei territori posseduti dal reverentissimo capitolo della terra di Gensano, eseguita il 20 maggio 1734 dal reverendo compassatore Berardino Ferrara di Capracotta a provincia di Lucera e Contrada del Molise, il cui originale trovasi in casa Polini. Nella relazione finale di detta platea si legge, che li territori del reverentissimo capitolo di Tomola 607 e mezzo provengono dal fu Gensiani. Sta di fatto che nel catalogo dei baroni normanni è registrato un Raul de Gensiano, ma i normanni apparsero in Italia meridionale il 1016 e Gensano. Ufficialmente apparve nella storia circa otto secoli prima. Molti ritengono che il nome derivi da Gentianum, e starebbe ad indicare gente abitante e luogo salubre. Siro Corti nel suo libro, Le province d'Italia, Paravia 1889, lo crede fondato nel X secolo con nome di Cintianum. L'avvocato de Nozza Alfonso è d'avviso che il nome del nostro paese derivi da Gensano se sta ad indicare, gente antica, gente vecchia, e ciò perché nell'idioma latino. Gens significa gente e Anus significa antica, vecchia. Di certo Gensano fece parte della Magna Grecia, ne fanno fede le numerose monete greche di tutte le epoche, rinvenute dentro e fuori l'abitato attuale. Inoltre il popolo ha conservato, con la semplicità e durezza dei modi molti usi e costumi greci negli sposalizi, nei riti funebri, nel modo di vestire, come ha conservato nel dialetto moltissime parole greche. Nel nostro dialetto si conservano ancora moltissime parole di origine greca, ed infatti, l'agnello tardivo si dice kurdash e, dal, greco x ton che significa ultimo nato. Il nome di Gensano, appare nella storia molto tardi, nel III secolo dell'era cristiana. Nel martirologio romano esistente nella Cattedrale di Potenza, è detto, Il giorno 30 agosto, tra gli altri, vanno commemorati i santi coniugi Bonifacio e Teclaoli a Drumento, Africa, i quali ebbero dodici figli maschi, tutti fervidi cristiani, martirizzati sotto l'imperatore Massimiliano mentre venivano trasportati a Roma, e precisamente, quattro a Potenza, Oronzo, Onorato, Fortunato, Sabiniano, il 27 agosto, 3 a Venosa, l'Arcidiacono Felice, 7 il Januario, il 28 agosto, 3 in, Vestiniano, Casale di Venosa, Vitale, Satiro e Riposto, il 29 agosto, i due ultimi a Gemano, ecco come, correva l'anno 258 dell'era cristiana. Su per la valle del Bradano si avanzava una schiera di cavalieri che trasportavano in mezzo a loro, seminudi, laceri, stanchi, due prigionieri, gli ultimi dei dodici fratelli, di nobile Prosapia. A circa due chilometri a sud di Genzano esisteva un centro abitato l'Urbs Festule che la tradizione popolare annovera tra le città pagane più importanti della Basilicata. Ed in verità i vestigi che si sono rinvenuti sono tali da avvalorare completamente la tradizione. Fondamenta di edifici colossali, sepolture imponenti con decorazioni in oro, oggetti di lusso del paganesimo stanno a dimostrare la esistenza di un importante centro abitato nel suo pieno splendore, prima della venuta di Gesù Cristo. Nel Museo Vaticano, Sala dei Manoscritti e dei Paesi di Pibrilli, è registrata una festula tra Cerenza, Oppido, Monte Peloso, ed è proprio la città della nostra tradizione. E nella platea, 1, di tutte le terre del reverendo capitolo di Genzano, compilata il 20 maggio 1734 dal regio compassatore Berardino Ferraro di Capracotta, al numero 16 è scritto, pezzo di terreno nel tenimento di detta terra nel luogo detto a Festola. Inoltre nella platea dei terreni posseduti dalla Cappella di Maria Santissima delle Grazie, compilata il 20 luglio dell'anno 1813 dai pubblici agrimensori Parisi Raffaele e Polini Giuseppe, è registrato in contrada mattina piccola nel luogo detto Festola un pezzo di terreno comperato da Giulio Buccino per atto del notar Giovanni Domenico Lepore il 12 agosto dell'anno 1721. Sempre nel tenimento di Genzano, in contrada Ralle, nelle vicinanze del confine tra la nostra università e quella di acerenza, si vuole sia esistita una borgata, o più esattamente una chiesa, intitolata a San Giustiello, certamente scomparsa prima del 1614 già che non citata dai regi tavolari Orazio Grassi e Giovan Battista de Fusco. Si rinvennero in questa zona ruderi antichi, sepolture, monete, armature ma del paese nulla. Anzi non vi è tradizione certa né conferma in atti pubblici e privati per quanto attive siano state al riguardo le nostre ricerche. Come si rileva da alcuni appunti antichi esistenti in casa dell'insegnante Giuseppe Palermo, i ruderi in detta contrada rinvenuti, e propriamente nella quota di Raffaele Anobile, furono i resti di stanze che fanno pensare alla esistenza di un convento annesso alla chiesa. Due, due tronchi di colonne, una di pietra rossastra e l'una di marmo bianco con due scanalature laterali. 3. Un capitello ornamentale bellissimo che forse doveva essere sovrapposto alla colonna di marmo, non venne rinvenuta la base di detta colonna perché gli scavi furono abbandonati. 4. Un pavimento di palmi quadrati 17, formato di basole rettangolari dello spessore di 27 centimetri ciascuna. Le basole, chi più chi meno, erano alcune lunghe un metro altre dai 30 ai 50 centimetri. Secondo pavimento ancora basolato era di circa metri quadrati 4,50. 5. Vasi. 6. Monete greche e romane. 7. Armi. Sorriso una piccola ma elegante acquasantiera di pietra intagliata, ornata di foglie di quercia.